Ciao a tutti, vi piace la mia maglietta? Ci sono i marshmallows! Allora, oggi risposte lettori, le cosiddette nano risposte lettori perché vuol dire che sono velocissime. Infatti noi tutti sappiamo che nano è un miliardesimo di secondo, perché micro è un milionesimo, milli è un millesimo. Quindi nano, eh? Nano oggi! Prima di tutto volevo farvi vedere l'altra mia fotocamera, che sicuramente avrete avuto anche voi. La grandissima Polaroid foto istantanea. C'è ancora quel profumo magico di Polaroid. Il profumo Polaroid. Ah sì, adesso vogliono fare anche un profumo, eh? Ode Polaroid. Poi questa qui l'ho comprata in un flea market per 10 dollari, mercato del pulci. E in omaggio c'era anche niente, poco o meno, che è il grandissimo Flash! Che quando li finivi tutti lo dovevi buttare via. E ce n'è ancora uno! Inesploso! Guarda, questo vale! Ve lo vendo per 100 dollari. Poi! Non è questo, c'era anche... Per questo è diverso da quella che avevo io. Questa si vede che ha la versione americana pronto. Pronto! La mia era bianca. Però questo è molto bello. Oh! Risp! Let! Oh no, non lo faccio, faccio un diavolo subito. Oh! Allora, dovrei mettere della puntatona, la puntatona, la puntatona, dov'è che sono? Dovrei mettere la puntatona di fotografia. Però lì è molto... Molto... È molto, molto pericoloso. Perché lì sicuro farò che so qualche errore, errorino. E allora chissà, i saputelli cosa mi diranno. Eh ma io sono un fotografo professionista dilettante, eh! Oh! Ad esempio, adesso, questo non ha detto niente. Però, ci sono delle cose, tipo, che ieri ho detto, che neanche sapevo io, no? Topcon 79, ce lo dice. Ciao! Sono un approssionato di fotografia, diciamo. Tra l'altro ho visto Topcon 79, le tue foto su flicche. Ma quello lì di profilo con le basette lunghe. È Mauro! Quello del grande fratello! Non sapevo che abitassi con Mauro del grande fratello. È uguale! Spiccicato! Sono contento! Ci sono alcuni che vogliono spiegare a te un po' meglio. Ah, ho 50mm un obiettivo con un angolo di visuale più vicino all'occhio umano, ma su pieno formato. Il pieno formato è il formato classico 24x36. Il formato del negativo o positivo. Il sensore della tua Canon è grande 22x14. Cioè è più piccolo del formato pieno. Sì! Quindi gli obiettivi che monterai subiranno un ingrandimento focale di 1,6. Il 50mm diventa dalla tua Canon un 80mm. Ma coi! Io voglio il 50mm preciso! 50 per 1,6 o 80mm. Un piccolo t da ritratto. Perdi l'angolo visuale del 50mm. Per non avere l'angolo del campo di 50mm, non fulgureti se avevi un 35mm. Vabbè, 80mm, 80mm, questo non ce l'avevo pensato. Ma c'era un 35mm 1,4? Questa è la domanda. Ci devo guardare. Poi i vecchi obiettivi hanno un tiraggio diverso. Ah, i vecchi obiettivi FD, cosa che mi ha detto quell'altro, che vi ho detto, sa fare le foto belle, ma non sa tanto di fotografia. Ad esempio, non sa usare Photoshop, ha l'iRoom, non l'ha mai usato, così così, no? Comunque, i vecchi obiettivi FD hanno un tiraggio diverso rispetto al sistema OS. Per adattarli al sistema OS, necessita di una lente addizionale nell'adattatore che riduce la qualità dell'immagine, crea dispersione, ingrandisce ancora di più, viene una porcheria. Però sono economici! Ma io ho visto uno sui bei ieri, era fatto di Pongo, e c'era la lente, quella di plastica. Oh, quello costava pochissimo, costava 1 euro. E ho tentato di comprare uno. Era un 35 mm a 1,2 F, F1,2. Guarda lì, se lo compri EOS e F, costa 1.000 dollari. Era di Pongo, ma Pongo bello! Era blu, era rosso e giallo, no? Poi potremmo cambiare anche la forma, ci fanno più allungato. E' Pongo, il Pongo è il Pongo. Personalmente mi piace molto fare a tutta apertura. Ti linko la mia foto. Allora, lui c'ha una Canon OS... Fami che mi ha impostato la mia foto con la... C'ha una Canon OS 7D. Allora, ecco perché le Canon professionali costano di più, perché hanno il sensore pieno formato, forse anche. La mia no. Comunque ci guarderò. Niente. Ma adesso sto bene così. Sto bene così, basta. Ma una cosa professionale, perché io adesso sono della fotografia, però vi dico i trucchi per diventare fotografi professionali. Oh, ho già spiegato il pacco batterie grande sotto. Quello, mettendo quello la fotogramma viene grossa. Dio, quello lì deve essere uno che sa fare. L'altra cosa che invece magari la gente comune non la sa, però io non lo so neanch'io, però è molto bella, no? Per far vedere che siete professionali. Che l'otturatore della vostra camera, quando scatta, fa... Ma forte! Invece la mia fa... E invece questo qui, non so che obiettivo c'è un mio amico, ma quando fa le foto si sente proprio... Slick-plack! Cha-cha! Cha-cha! Ok, l'obiettivo è... Quindi, deve avere... Non so perché fa sto rumorone, però... Dal rumore capisce che... C'è un fotografo professionista in sala. E basta. Vi farò vedere, non lo so. Comunque... Allora, risposte lettori, finita. Ne avevo solo una da fare. Allora, Topcon, ce lo ricordiamo tutti, è un dispositivo... È un dispositivo mobile, che serve per fare misurazioni, è dotato di GPS, è una cosa abbastanza professionale, quindi non è comparato con l'iPhone. Comunque, è una compagnia che lavoro, che usa i Topcon, usa tutte queste cose, i Symbol, perché fanno dei software sopra, no? Software di geotagging, cose così. Allora, conosco il Topcon. È brutto. Bruttissimo. Poi... Aie, che lo che sono, eh, devo stoppare. Comunque, c'era uno che diceva, a me è meglio, una Nikon 5000D, o una Canon 550. Secondo me, la Canon 550, no? Cioè, perché la 550 è uscita da poco, poi c'ha tipo 17 megapixel, sensibilità da 100 a 6400, 12000, poi c'ha più funzioni, puoi registrare anche video volendo. E invece la Nikon 5000D è vecchia, poi non ho capito, la Nikon c'ha la sensibilità solo da 200 a 1600, ma dai, 100 ce l'hanno tutti, 100 non ce l'ha. Poi, tra quelle due, la Canon, poi in generale Canon Nikon, c'è sempre stato due scure di pensiero. Anch'io quando dovevo comprare una fotocamera, all'inizio guardavo Nikon, perché dicono, è tutti professionale, professionale, però costava di più, poi alla fine, anche i professionisti usano la Canon ormai, ormai non c'è più tanta, differenza, ci sono solo quelli che dicono Nikon Nikon è meglio, ma io ho visto moltissimi che usano Canon, Fabrizio Corona usa una Canon, quindi, no, non lo so Fabrizio Corona, però, mio cugino usa una Canon, quindi Canon. Aspetta, torno subito, scogliattolo! Vabbè, sono tornato, risposte ai lettori, Pasquale, ah no, aspetta, questa è una domanda importante, ci vorrà una risposta importante, ciao, ho visto i tuoi grass, i tuoi video, sei bravo, sei bello, ho visto che hai sostituito il tuo iPhone con quello nuovo, non è che mi regaleresti il tuo vecchio iPhone, qui in Italia costano ancora una fortuna, eh, sì eh, dai, mandami un indirizzo, te lo spedisco, perché io ho speso 600 dollari, adesso lo regalo, no, no, a parte che l'ho già regalato, ah ah, cioè, no, l'ho regalato, già, allora, ciao, ho visto il tuo, macbook fissato, hai parlato di un lavoro su quale internet, no, il tuo macbook fisso, hai parlato di un lavoro su internet, quale si è, quale si è, non lo so, non posso dire, no, questa è una informazione segreta, allora, 7111, ah, 711 ci ha deluso, 711 è uno che ci segue da anni, 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 ma ha fatto la domanda, che è indomandabile, la domanda che non si può domandare, allora, ti seguo da anni, potresti, potresti dimmi, qualcosa per fare un tema per wordpress, non lo so, non so niente, non ci sono mai, non mi ci sono mai messo, di straimpegno con wordpress, a fare i temi, se non posso fare, ma, di solito io lo carico, quelli gratis, e poi li modifico, più facile, ah, non so se qualche sviluppatore per wordpress è disponibile, non so se c'è, però tutti quelli che ho visto, fanno pagare, minimo 200 dollari, per tema, da pazzi, ai 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 ai, è purtroppo costare, cioè, un tema, ok, un tema modificato, cambi colore, una stronzata, la posso fare anche io, ma se c'è un tema, fatto, da zero, 200 dollari, mi sembrano pure pochi, almeno, 2000, non lo so, allora, principino, VR, ciao, mi chiedo Simone, faccio una grafica, e non ce l'ho l'MSN, purtroppo, Master, Sanj, G, Master Sanj, ciao, lo so che non mi conosci, volevo chiederti due cose, mi dai il link, che hai scaricato, Macromedia Flash, 8, il link è, adobe.com, perché l'ho comprato originale, tieni, non potresti fare una guida, no, ci sono i libri, comprati un libro, ciao, Flash, ormai, non lo usa più nessuno, pochi, lo usano in pochi, prossimo libro che voglio comprare, no, perché siccome io sono intelligente, non vado a cercare un video tutorial, su YouTube, mi comprerò un libro, comprerò, voglio comprare, HTML, HTML5, e CSS3, anche se però è inutile, perché Internet Explorer, non supporto un cavolo, è bello solo giusto per, fare le applicazioni, web applicazioni sull'iPhone, allora, vuoi fare, che so, un quadrato, con gli angoli rotondati, una stronzata, tattata, fatto, invece ovviamente, Internet Explorer, non li sopporta, quindi, un po' inutile, però, ormai, il trend, è HTML5, farlo, cioè, HTML5, lo potete benissimo fare, no? Poi, Internet Explorer, non supporta, delle cose, ad esempio, il video, non so se lo supporta, ma, però, comunque, si può, farli, l'attività, da quello che ho capito, comunque, vedrò, un libretto, prossimamente, quando sono, in astinenza, di Ciuschi, mi comprerò il libro, anch'io, ho una PS3, posso aggiungerti, e aggiungi, aggiungi, è da un mese, che non gioco, a PlayStation, ma sto aspettando, Move, che è, il nuovo controller, scopiazzatissimo, dal Wii, ma, a noi, questo non importa, per la PlayStation 3, perché, a me, il Wii, mi è piaciuto, un casino, soprattutto, per sparare, uccidere mostri, non tanto, quei giochi, sportivi, perché a me, mi piace stare, sprapprazzato, sul divano, non saltellare, andare su, giù, con le mani, però, quando giocavo, tipo, a Call of Duty, sulla Wii, bellezza, allora, sto così, poi, 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 i miri, tutto, invece, copri, stai, fa schifo, allora, con il nuovo controllo, che si chiamerà, PlayStation Move, si tornerà, come al Wii, e voi direte, perché non ti compri, è più di Wii, ce l'ho, ma, e non è in HD, ormai, le robe in HD, non mi piacciono più, ultima, V3, Weapon 92, Ciao, ti seguo sempre, vorrei chiederti un parere, sul Macintosh, sto pensando a postare Mac, soprattutto perché voglio progettare l'applicazione per iPhone, ma anche perché il mondo è mi ha sempre appassionato, puntavo su Mac Mini, che ne pensi? Mac Mini va bene, secondo me i Mac Mini però costano troppo, cioè 750 euro per un Mac Mini, allora a sto punto spendo 1000, mi compro un MacBook, un MacBook, io, il mio MacBook che avevo, nero, poi l'ho regalato a mia mamma, però, ci ho regalato, scranzi i soldi, però, è sempre andato benissimo, ovviamente non è che potevo aprire Photoshop, Dreamweaver, e fare delle robe professionali, però per cazzatino, tipo ITV, che è un programma fantastico, che non è che è un programma del scarso, che non ci vuole risorse, per il registro in HD in tempo reale, mai un fuori sincrono, neanche a pagarlo oro, poi tutte le cose, andava benissimo, quindi io consiglio un MacBook, che costa mille, invece il Mac Mini poi, devi comprare il monitor, che magari ce l'hai già, però è un monitor scarso, poi magari vuoi la webcam, devi comprare la webcam, poi devi comprare la tastiera, poi devi comprare il mouse, e poi ti devi comprare quello, invece, poi il MacBook te lo puoi portare anche in giro, è più bello, allora, EdX Production, cercando delle spiegazioni, guarda cosa ho trovato, come si fa, punto EU, categoria, internet, usano i tuoi vecchi video, ho riconosciuto la voce, per uso commerciale, sì, non è il primo, e non sarei neanche l'ultimo, però, perlomeno questo, usa, i video, pigliati da YouTube, quindi, teoricamente sarebbe anche colpa mia, perché ho lasciato le persone, inglobare i video da YouTube, nei loro siti, no, però a me non me ne frega, comunque, essendo da YouTube, volendo molta gente, dopo clicca, va su YouTube, e sono molto open source stamattina, lascio fare, prossima, poi ce lo vuoi, non c'ho voglia di litigare, giulis 2001, se ti piacciono le foto, stile e modellini, allora ti consiglio cortometraggio, questo cortometraggio, ci guarderò, doyle, dogl, doyle, ciao, quando ti proponi altri, screen, di come fare un logo, con il tuo sketchbook, e tutto trasportato su illustretto, è perché così non li faccio mai, cioè, se io faccio il logo, prima, nel mio sketchbook, però dopo non è che, li ricalco, ad esempio ci sono quelli, che disegnano su sketchbook a matita, poi dopo, scansionano la foto, e la ricalcano in illustrator, ma io no, un sketchbook mi serve solo, per le idee, e, idee, comunque da un sacco, che non faccio più un logo, ormai la gente, non vuole più un cavolo, e io so il sito web, secondo me, quello che mi piace, dove lavoro, è fare siti web, ma anche i loghi, i loghi sono belli, le altre robe, il brochure, il biglietto, è la cosa più, che non mi piace proprio, pallosa, è fare i biglietti da visita, la carta intestata, ma anche, la brochure, non è che mi piace tanto, un po' palloso, il post è palloso, invece il logo è bello, allora, fuori dal mucchio, ah, niente, l'hanno scritto a tutti, Sasa88, volevo dirti, che i tuoi tutorial, sono vasti, però io non ho tanto tempo, più a imparare, leggendo, allora, io, vorrei prendere un sito, già imparare, sono salvatore, volevo dirti, che i tuoi tutorial, sono vasti, però io non ho tanto tempo, per imparare, leggendo articoli, e seguendo tutorial, e allora, ma fa culo, però vuoi fare il sito web, anch'io, non ho voglia, di andare a lavorare, però vorrei fare un sacco di soldi, non è che mi mandi, un assegno circolare, non so, io vorrei, partire da un sito, già impostato, in modo, dover fare, solo qualche modifica, come testi e foto, secondo te è possibile, è possibile, allora installati wordpress, installati un tema, e poi, sei già a posto, prossima, elgar88, ciao, non è che mi faresti, un riassunto, delle cose da fare, per indicizzare per bene, un sito web, l'ho già fatto, cerca, mircogex, seo, seo, ho trucchetti, da mettere nel codice, non ce ne sono, tipo, eh, metti sto codice, e arrivi, primo in google, ci sono cose da fare, nel codice, non è che sono dei trucchettoni, pozzo basso, riguardo al video, Ikinet, Ulino, come si chiama, quella ragazza donna, che vicina a te, mentre tocchi il fosse, e sepolta del miliardi di anni, quella con la febbra, ah, si chiama Debbie, e non è ben vista dal gruppo, perché, è abbastanza, troppo aperta, troppo, eh, simpatica, ma no, non è simpatica gente, è un po', un po' stronza, no, al primo impatto, anche a me, non lo so, mi sa un po', un po' stronza, infatti, adesso che vogliono andare a fare un mega hiking di 34 miglia, ti piacerebbe anche a me andare, ma non so se ce la faccio, del tipo fanno, in un giorno ne fanno 10, in un secondo giorno fanno 14 miglia, poi, da calcolare che non è che vai, pantaloncini corti, ciabatte, e basta, no, vai lì con tutto il pacone, la tenda, qui un 14, pesante, e questa qui vuole andare, però, quello che l'ha organizzato ha detto, guardate che, se voi non riuscite a stare al mio passo, io vi mollo, in mezzo ai boschi, e lei ha detto, ma no, ma io sì, ho fatto qualche volta hiking, questa qui, eh, non pensa, no, poi, anche l'altro ha detto, ma questa qui è la, è la classica tipa, che ti fa restare, che dici che, l'hai toccata, eh, perché, non lo so, quindi, bisogna stare alla larga, da quella lì, adesso, non ho tempo, la prima, divertiva di più, allora, ci ha mandato, un link, di Flick, che, che ha fatto le foto in Asia, che faccio, quei pesci, allora, basta, questo niente, Danzeni, siti orizzontali, tu li fai, i siti orizzontali, sono belli, ma se comodi, quindi, la raccolta, di siti orizzontali, ho siti orizzontali, eh, non, di solito, non le faccio, perché, la gente, la gente, pensa subito, siti orizzontali, merda, e invece no, alcuni sono belli, certo, però, ci sono, la scuola di pensiero, di quelli che dicono, che il sito, deve essere usabile, e gnagnagnè, lo scroll, deve essere dall'alto, verso il basso, e gnagnè, e gnagnè, e allora, non si possono usare, però, per cambiare, si potrebbe, anche fare, comunque, di solito, i siti che faccio io, non sono, gente che vuole qualcosa, di estremamente diverso, ma quindi, non ho mai fatti, mattdur69, a proposito, della visione, anamorfica, forse conosci, già sto tipo, varini.org, e l'ho detto, anch'io, nel video, varini.org, ha tutti questi, disegni, nelle città, geometrici, anamorfici, ma io non l'ho capito, nel suo portfolio, lì, ma sono tutti veri, a me mi sembrano, alcuni finti, non mi, cioè, no, ma ne ha, così tanti, che, ne avrei dovuto, vedere, almeno, uno, dal vero, invece, non ho mai visto, nessuno, che abbia fatto, delle robe così, in la città, secondo me, sono finti, therobin73, ciao, ti seguo, vi potresti dire, che programma, usi per fare, la voce anonima, nel suo programma, se c'hai, un software, da audio, vai, e cambiaci, la tonalità, oppure il pitch, e basta, se c'hai il garage band, lo stesso, leonardo, tiepolo, conosco il sito, linda, quanto tempo ci vuole per ritenersi pronti a lavorare, studiare, pregando, dalle 8 di mattina, alle 8 di sera, come si fa a diventare un graphic designer, basta con le premesse, premetto, che ho sempre, non premettere niente, fare una domanda, che non la trovo, in 5 paragrafi, non trovo la domanda, sì, ma qualche consiglio, dove andare a recuperare informazioni e materiali, per diventare un web designer, purtroppo qui in Italia, ho visto paesi, professori, molto richiesto, io ti ho detto, in Italia, il ruolo di graphic designer, è, sottosviluppato, perché c'è gente, che dice, ma io voglio un sitino, per cambiare le foto, però 200 dollari, sono troppi, e allora, non è che me lo fai gratis, no, allora, per recuperare, ci sono i libri, ci sono i blog, ci sono miliardi di blog, cerca su Google, design Italia blog, dopo bisogna spacciugare, bisogna essere perspicaci, in questo lavoro, un po', risposta, perché hai fatto, una domanda, troppo complessa, e che non, non ha una risposta facile, new pavel, ciao, sto creando, un sito di ricette italiano, visto che i video, sono brillanti, ti interessa collaborare, non mi interessa, non c'ho tempo, non c'ho voglia, non c'ho tempo, basta, adesso, non riguardo a te, però, spesso, alcuni che parli, amici, dicono, mi fai un sito, così, mi fai un sito, beh, se per uno, per fare un sito, ovviamente, lo devo fare, che sono, il weekend, il sabato, perché non c'ho tempo al lavoro, no? Allora, cioè, fare un sito web, viene considerato come un passatempo, una stronzata, invece, fare lo stesso domanda, alla persona, magari lui fa, che so, l'idraulico, uè, senti, non è che mi viene a giustare l'impianto a casa, che so, sabato sera o domenica, tanto per te sarà una cazzata, ecco, rigirate la domanda a loro stessi, e vedremo cosa diranno, poi, può essere anche una cazzata, però io, sabato o domenica, voglio fare altre cose, Umberto Barletta, domanda semplice, ciao, mi dici come caricare i video più di dieci minuti? Sono un partner di YouTube, The Vic Nick, ma la gente che viene in campeggio con te, che media di età hanno, dei video sembrano tutti di certa età, comunque, e sono tutti vecchi, perché? Perché sì, e va bene così, non voglio i bambarelli, non voglio andare in campeggio con dieci bambarelli, va bene? Oh, ci saranno anche gruppi con i bambarelli, ma a me i bambarelli mi stanno tipati, non sanno niente, ma che, com'è che funziona, come funziona, mi fai toccare quello, no, basta, vado con gente vecchia, e basta, anche se c'era Ciusca, ieri c'era, l'altro ieri c'era Ciusca, Ciusca è ufficiale, si è fidanzata, vi saluto a tutti, si è fidanzata con Doug, Linux, ascolto poi ripetere tutti i ragazzi, che ancora non hanno capito, oh, finalmente un messaggio interessante, ciao, tutto bene, ascolta, puoi ripetere a tutti quei ragazzi, che ancora non l'hanno capito, che non serve avere un programma professionale, per fare un buon lavoro di disegno, ma bisogna saperlo usare, puoi avere ultra mega super professionale, ma se non sai ora da sopra, e infatti quello che dico anche io, mi ricordo quando ero a scuola, c'era un barbone, c'era un barbone, una scimmia, una scimmia insomma, un barbo scimmia, che veniva in classe con i MacBook Pro G4, guardo, e poi alla fine faceva i lavori più scarsi, li faceva lui, ma, oi, mi era fissato che era, che pensava di essere bravo, e poi, tutte le volte che uno diceva a me, con i Mac ce l'ho, e ce l'ho, ma va fra culo, che sei il begile, ecco, ma infatti è anche il mio concetto, non serve avere la roba professionale, per fare le robe professionelle, però, certo, che se inizi, se vuoi fare un dipinto, e usi paint, cioè ti può anche venire bellissimo, però se dopo, che so, crash al computer, è un altro problema, bisogna avere, l'importante è avere la roba, l'importante è essere bravo, poi il computer comunque aiuta, il computer è bello, no, ma infatti quelli lì che dicono, ho scaricato appena la versione di CS4, però non so fare i siti, mi aiuti, ecco, se no ti serve scaricare la versione ultimissima di CS4, ti serviva, anche, potrei fare benissimo, anche in Gimp, guarda, voglio dare una buona parola a Gimp, Gimp è gratis, allora, Danilo da Fiumicino, Danilo da Fiumicino fa sempre le cover, ma non ce lo voglio, Baglioni, Ubuntu, Salvo 17056, ecco, classica, classico utente Ubuntu, che scrive tutto a maiuscolo, che controbrattola la tua video risposta, ma che dici tu che fa cagare, allora non dovrebbe neanche essere una piattaforma ideale per programmare e farci delle fondamenta server, infatti è sempre o quasi la migliore richiesta da parte di professionisti per fare programmazione, ed è anche molto richiesta, cioè, allora, per programmare, per forza bisogna avere Linux, a me mi sembra una stronzata, allora, eh, c'è, Visual Basic, CCC, Pupupu, eh, c'è, a me mi sembra un po' una stronzata, cioè, si può fare un po' una stronzata, Ubuntu viene utilizzato tantissimo da sistemi, ma se Ubuntu è nato ieri, avrà tre anni, viene utilizzato tantissimo da sistemi, animisti e anche famosi casi produttrici di film, quali? Ma io sapevo che le case produttrici di film, per tagliare i film, usano Final Cut Pro e basta! Poi alcune usano gli HP, perché sono sponsorizzate da HP, ma non mi pare proprio che usino Ubuntu, questa deve essere una casa cinematografica un po' scarsa. Allora, qual'è che se le dai? Caccia fuori un programma, sicuramente è un open source per Ubuntu, per fare video editing, che usano famose case produttrici di film. Ognuno guarda le persone, ciao! Secondo me Ubuntu va bene, per chi non vuole spendere niente, però, i software commerciali mi piacciono di più. io voglio... non lo so... Cioè, c'è gente che usa Ubuntu, ha solo Ubuntu e basta, o c'è gente che usa Ubuntu così per far vedere che c'è Ubuntu, e poi magari nell'altra partizione c'è Windows... craccato ovviamente perché... scusa, allora perché ti scarichi anche Windows? se ti piace tanto Ubuntu, ti entri su Ubuntu, non ci scassare, no? Mascone! Big Bang Theory, l'hai mai visto questo filmetto? No, non l'ho mai visto. Ti consiglio di vederlo, è molto bello. Ma non l'ho mai visto! Sì, ma io ti consiglio di vederlo, perché è molto bello. E allora lo guarderò. Va bene. Questo è un esempio di risposte e domande interattive. Allora, perché l'iPhone costa meno in USA? Perché, ecco, domande invece interattive, però stupidelle, perché le ho già risposte miliardi di volte. Perché l'iPhone costa meno in USA? Perché, a parte il fatto che i nomi americani siamo più belli, ma poi abbiamo anche il contratto telefonico obbligatorio. Come sei verato in America? In aereo. Vorrei fare un sito come faccio? Devi chiamare, guardare sulle pagine gialle e cercare un web designer e chiamarlo. Come fai a mettere i video più lunghi di dieci minuti? Perché sono partner di YouTube. Ma ci deve essere stato un virus, perché il mascone non è uno sminchiolato appena arrivato. È uno che ho visto un snonco di volte e fa queste domande. Uè, ma come sei messo? Ma che testa c'hai? Come fai a mettere i banni nella tua pagina? Perché sono un partner di YouTube. Hai msn e mi aggiungi? Non c'ho msn, non ti aggiungo. L'Alex Graphics. Diciamo, mi diresti una volta creato il template con Photoshop e aperto il Dreamweave, come si inizia a creare automaticamente il CSS? E non si crea automaticamente il CSS. Si deve crearlo a mano, manualmente. Allora, uno pensava, questo pensava, no? Allora, ho fatto le cose in Photoshop. Adesso apro Dreamweave, importo il Photoshop, truc, 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 tutto il codice, tutto il CSS fatto, a posto, vai. Beh, Photoshop, se lo esporti, ti fa lui l'HTML, volendo. Però alla fine viene un gran casino. Quindi io lo rifaccio sempre da zero, il sito. Davide87Rab. Ciao, ti seguo sempre. Che ne pensi di questo tablet iPad? Ah, non è sottile come l'iPad. Il tablet iView con Windows 7. Penso che sia inutile come l'iPad. E l'iPad non lo comprerò, ma... Nel prossimo mese, no? Dico... Non lo... Non dico che non lo comprerò assolutamente l'iPad. Ma non certo. Adesso quando esce... A meno che esce e ci sono delle novità sensazionali che non abbiamo detto, tipo la fotocamera, la funzione transformer, che schiacciando un tasto diventa gigante, un monitor di ciascente pollici, si trasforma, no? Delle cose che magari prima non avevano annunciato. Però intanto ho già speso un sacco di soldi con la macchina fotografica e quindi adesso non lo comprerò. Poi tra l'altro, ah, bellissimo perché magari uno potrebbe dire ah, hai speso un sacco di soldi nell'obiettivo, ma io ho fatto questa semplice equazione matematica. Allora, iPad? No, quindi ho risparmiato 500 dollari. Lavo a stoviglie? No, e ho risparmiato altre 500 dollari. Quindi ho 1000 dollari di bonus da spendere in giochini. Infatti, ieri ho lavato i piatti a mano. Sì, ma adesso con i piatti devo fare una regola. Devo fare che quando mangio uso un piatto e uso sempre solo quello. Perché io di solito quando mangio uso 100 piatti. Cioè, mangio durante la settimana e uso sempre un piatto nuovo. E allora alla fine mi ritrovo a dover lavare i 100 piatti. Invece se riesco a utilizzare solo uno alla volta, ci guadagno, eh. ci guadagno di brutto. Allora, ma... no, ma e ma. Dovrei iniziare un sito sempliciotto, ma non ne ho mai fatto uno. Mi hanno consigliato iWeb. Sì, ti consiglio anch'io iWeb. Se non hai mai fatto uno, iWeb è il migliore per tutti. Danseni. Ah, niente. Danseni ho già risposto. Tanuzzo. No. Tanuzzino. Tanuzzino è un bel nome. Ciuschi. Ti vorrò chiamare Tanuzzo. È un nome che ispira fiducia. Molto milanese. Un nome molto milanese. Allora, c'è Brambilla, Tanuzzo. Tanuzzo. Tanuzzo deriva del nome Gaetano. Perché io mi ricordo che nel film La Casa Stragata il cane si chiama Gaetano poi lo chiamavano Tano. Come Tano Cariddi. Famosissimo attore americano. Ciao! Ciao! Ti chiamo Giacomo. Eh, ma come? So che ti chiamavi Gaetano. Questo account ti sto mandando di mail è fittizio perché se utilizzi MSN non ce l'ho MSN Borsani Elena Ciao! Sono Elena e vorrei invitarti a vedere un video di un mio caro amico artista. Il video di YouTube si intitola Buona l'acqua ovunque si trovi di Riccardo Maffioli Sarebbe un'ora e vorreste riuscire al commento Ci guarderò Cioschino Cioschi sta spacciugando lei e sta rompendo tutto come sempre fotofilosofia ho iniziato a approfondire la questione expression engine vorrei fare un sistema web di prenotazioni per hotel ma di default penso che non ci sia niente per expression engine infatti non so come si potrebbe fare però sicuramente ci sarà qualche modulo però non ne conosco nessuno Cioschi che guardi I love rap 95 ah ci ho visto che c'è stata un'esplosione a Jacksonville una centrale possesti parlare nel tuo video non lo so non mi ricordo di questa esplosione è stato molto tempo fa PS3 ho cercato di aggiungerti ma ne manca allora io non ce la faccio più borsiere ci guardo dopo scusate allora borsiere ok adesso facciamo risposte ultra veloci saluto e basta senza rispondere saluto Christian mo 80 però scrivimi le domande più sintetiche perché un paragrafone sono tempo di legge da andare via spino 29 06 50 ah ah spino ho risposto non posso dire segreto militare angel child pedometro ti hanno rubato l'idea ma si ma ormai il pedometro l'avevo fatto anch'io per iphone ma comunque quello lì che mi ha rubato l'idea ha fatto una cacata di applicazione lascio stare non lo citerò in corte allora applicazione per fare le applicazioni sull'iphone si chiama appmaker.com si ma ho guardato ma ti fa praticamente il tuo blog ti fa l'applicazione ma stronzata un lettore rss è facilissimo umbrella ciao lorenzo ti dà problemi paralleli sul tuo mac pro a me rallenta molto lo spegnimento ma per me va bene comunque non so comunque io paralleli mi sembra un po' lento ultimamente però trucco è spegnerlo quando hai finito di usare il window lo spegni paralleli perché se lo metti in pausa lì sospendi quando lo vai a riaccendere è stralento che si deve caricare tutte le cose invece spegnendolo rifacendo il boot da zero è molto più veloce che io lo mettevo in pausa sospensa con tutti i browser aperti poi internet explorer 7 8 9 3 qua tutti i browser bellissimi che c'è internet explorer no che ancora la gente utilizza per testare i siti ma facendo così rallentavo un casino l'apertura ando and al no al no cosa ne pensi di Lockertz che non penso niente non lo conosco allora lo conosco e secondo me è una catena di Sant'Antonio e basta e basta di dire ma mi regano le cose è vero è vero è una catena di Sant'Antonio perché intanto a me si vede benissimo tutti che dicono è bellissimo si vengono le cose mandami un'email che ti mi invia l'invito perché? perché ovviamente ti guadagni i punti io l'altro guadagno i punti guadagni i punti è una catena di Sant'Antonio basta potresti creare qualche video CSS per favore ne ho creato uno bellissimo spiegando la differenza tra ID e class devi cercare chi cerca trova Mirkogex CSS cp informatic ti sei interessato a trasmettere in live stream sul mio server in struttura? no no non sono interessato sconvolts reload si ho scoperto dove abiti che programma è Horizon Dark ma per fare l'intro di Mirkogex di Boeings TV in che programma è usato? che programma è usato? l'hai detto te si chiama Boeings TV il programma che è usato se no secondo te Boeings TV cos'è che era? era il titolo del video che ho fatto? no il programma il mio indirizzo lo conosciamo tutti G2H Gabriele Finessi come faccio a convivere con la mia azienda con le aziende sono reali vantaggi di usare il Macintosh non lo so sono più belli a vedersi e basta il ragazzo poi chi programma usa Linux l'ha detto prima cosa come fate a usare Windows PHP e cose i veri programmatori usano Linux anzi no usano Unix e basta ragazzo di campagna ragazzo di campagna ragazzo di campagna a mano oppure su una specie di fondo base no io faccio il sito in photoshop ma quello è solo il design che non mica puoi partire in Dreamweaver e fare un sito prima devi avere il design e quindi no dopo te lo devi fare a mano il resto bacio vocine perché i tuoi video non stanno ma electro van dj saluto tutti saluto electro van dj eeeh ho finito tutte le risposte dittori allora per il momento è tutto ciao a tutti scoiatelo